io oggi ho fatto più di lei fai attenzione sorella stai tranquilla sorella Aurora dobbiamo cercare di stare tutte unite silenzio tutte no madre stavo solo pensando a quanta gente dovremmo soddisfare oggi e quello? che cos'è? secondo lei sorella? fuori! i cani non sono ammessi in questo negozio chi vuole seguir la mia strada e pleghi se stesso e mi segua sorella cara dammi oggi il tuo raccolto quotidiano vai vai scusi sorella ma ha fatto bene i conti lei osa contraddire una sorella? non si contraddice la parola del signore ok? 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 Grazie a tutti